I numeri degli eventi sospesi, delle perdite economiche e delle presenze a causa del Covid dipingono un bilancio di grave difficoltà per le proloco della provincia. Dati che però non bloccano la volontà di ripartire, come spiega il presidente dell'Unione delle Proloco di Pesaro e Urbino, Damiano Bartoccetti, che ha sottolineato come misura essenziale per programmare il calendario delle nuove manifestazioni e iniziative la definizione di chiare linee guida di sicurezza. Abbiamo contattato proprio in questi giorni il nuovo prefetto, abbiamo chiesto un incontro assieme al signor questore di Pesaro e Urbino che vogliamo ringraziare per la grande disponibilità e di rapporto interistituzionale che si è creato, che ci è sempre stato. Creeremo delle linee guida che saranno uguali per tutte le 68 proloco della nostra provincia in modo tale che possiamo ripartire in sicurezza con delle linee chiare, con delle regole chiare perché prima di tutto per noi vige il rispetto. Però è importante ripartire perché siamo veramente in una difficoltà enorme e per noi presidenti comincia a diventare un po' complicato e difficile gestire il tutto. Sono partiti piccoli eventi tipo Monteporzio, partirà adesso Monbaroccio la festa della lavanda, sono piccoli eventi che però daranno il segno della ripartenza. Poi soprattutto quello che ci teniamo a precisare è che senza le proloco, senza i volontari questi borghi non sarebbero così vivi, così accesi. In più e soprattutto attirano turisti. Lo scorso anno abbiamo annullato di eventi importanti, 300 eventi durante il 2020, con una perdita per le proloco di circa 2 milioni di euro e parliamo di almeno 3 milioni di euro di mancati introiti per i fornitori. Quindi questa la dice lunga, cioè per i fornitori intendo tutti quelli che gravitano dai prodotti tipici locali, dagli esercenti, i commercianti che grazie alle nostre feste riuscivano a vendere tantissimo materiale. Quindi su questo è chiaro che ci vuole un aiuto per una ripartenza, bisogna dare una mano alle proloco. Il 26 faremo l'assemblea provinciale al santuario del Beato Sante, quindi un luogo simbolo per eccellenza del turismo e da lì inviteremo tutti i rappresentanti della nostra regione, anzi gli invitiamo a partecipare tutti i rappresentanti politici della nostra regione per iniziare un nuovo percorso di gestione di tutto il territorio regionale. E nel frattempo il volontariato e le proloco hanno ricevuto un importante riconoscimento proprio durante le cerimonie per il 2 giugno, per la festa della Repubblica? Sì, è stata una cosa un po' a sorpresa che anche in questo momento mi emoziona particolarmente perché essere nominato Cavaliere della Repubblica è stato un riconoscimento importante che Sua Eccellenza il Prefetto ha voluto consegnarmi personalmente e ancora con grande soddisfazione però questo sicuramente è merito di tutti i volontari, di tutti gli uomini e le donne delle proloco e anche chi nel percorso della mia vita come i frati del Santuario del Beato Sante ma i frati francescani di tutte le marche che mi hanno insegnato a donare, a avere uno spirito di volontariato. Chiaramente questo onere di Cavaliere che è molto pesante cercherò di impegnarmi ancora di più, che mi dia ancora più forza ma che dia forza a tutte le proloco per poterci riprendere al più presto perché ne abbiamo veramente bisogno.